Buongiorno a tutti, il video di oggi è incentrato su un'analisi di ampio respiro ma che ha delle specifiche in alcuni titoli in particolare sulla volontà spesso anche un po' truffaldina, diciamo così, dei distributori italiani ma non è un vizio solo dei distributori italiani, diciamo che un po' tutto il mondo è paese quindi in qualche modo vi è sempre una tendenza del mondo cinematografico di cambiare, di adattare di cercare in qualche modo di andare a stuzzicare quando un pubblico, quando un altro nelle traduzioni, nei doppiaggi, quindi quando vengono anche rappresentate alcune cose in questo abbiamo parlato veramente degli abomini, possiamo dire, delle leggerezze adesso mi viene in mente quando nel film Gli Intoccabili, film ambientato nell'epoca del proibizionismo americano c'è un personaggio che parla, dice Al Capone non paga una lira di tasse, pensare che Al Capone non paghi una lira di tasse, potessimo usare un'altra terminologia siamo in America, quindi diciamo è ovvio che in questo senso vi sono sempre un frammisto tra volontà predeterminate di cambiare un titolo di un film per cercare di accalappiare, di durlupinare anche il pubblico, dall'altro vi sono dei strafalcioni grandissimi. Per quanto riguarda alcuni dei casi forse non sempre noti ma veramente di una capacità veramente grossolana, grottesca, risibile, pensiamo a Weekend senza il morto, che è un film che non c'entra assolutamente niente con Weekend con il morto, ma visto che c'era uno dei protagonisti cercavano di far credere che fosse un ennesimo seguito di Weekend con il morto. Oppure mi viene in mente una commedia che si chiamava Le Cerbiatte, Le Cerbiatte era il titolo tradotto, che era il titolo francese originale, in cui si parlava di una storia negli anni 70, una storia un po' ambigua tra due ragazze. Il titolo originale era Le Biche, Le Cerbiatte, e cosa ha fatto il distributore italiano? Ha messo Le Cerbiatte ma ci ha messo anche sotto volutamente, per un pubblico che non conosceva il francese, la dizione originale. Le Biche è scritto Les Biques e uno faceva crede Les Biques sul fatto di un rapporto controverso da due ragazze che avevano un'amicizia un po'... senza che poi nel film era assolutamente caso, non è che c'erano delle allusioni ma non c'era nessun elemento che potesse poi portare gli ardori maschili verso trovare qualcosa di piccante, quindi è un elemento piuttosto ricorrente in cui molto spesso poi si è scaduti anche in situazioni grottesche, pensiamo ai film che hanno dovuto utilizzare dei titoli diversi perché quei titoli erano già stati utilizzati in altri film, pensiamo alla Pantera Rosa, la Pantera Rosa che c'era, la Pantera Rosa colpisce ancora, che era già stato utilizzato per un altro film, quindi venne utilizzato il ritorno della Pantera Rosa, oppure Vertigo, la donna che visse due volte perché era stato utilizzato Vertigine per il film Laura, tutta una serie di questi film, Rio Bravo, Rio Grande che poi Rio Bravo venne utilizzato per il dollaro d'onore, quindi, cioè per il dollaro d'onore venne utilizzato, cioè al contrario, per Rio Bravo venne utilizzato il dollaro d'onore, quindi troviamo tutta una serie di espedienti che negli anni in qualche modo si andavano un po' a riprendere, ripeto, sempre in maniera un po' per cercare di carpire, di trovare, e di questi ci sono veramente tantissimi, tantissime di queste esperienze. Nell'ambito bellico, l'ambito bellico non fa eccezione, vi sono numerosissimi film che hanno avuto traduzioni diverse, pensiamo ai Guerrieri, che in realtà era The Kelly's Heroes, e secondo me in questo ci sta, oppure pensiamo a, e di Brian Hutton, che abbiamo recensito, oppure pensiamo a Castle Chip, di Castle Chip del 69, invece il Guerriere del 70, di Sidney Pollack, appunto, che venne tradotto Ardenne 44. Quindi ci troviamo di fronte a tutta una serie di film che in qualche modo debbono essere stravolti o debbono essere cambiati nei titoli perché il pubblico non capirebbe perché il pubblico vuole essere in qualche modo indirizzato verso altre cose. E arriviamo ai giorni nostri. Allora sappiamo benissimo, questo lo devo ringraziare Mauro Lottici, il amico Mauro Lottici, che ha un canale molto interessante e specifico sulla zona, su tutta la memoria, la memoria cinematografica, fotografica, letteraria, di romanzi, saggi, chi più ne ha più ne metta del contesto di Monte Cassino, che mi ha dato lo spunto per parlare del film Recon. Recon del 2019, un film di Robert David Port, un film che viene adesso distribuito in Italia con il nome 1944, La battaglia di Cassino. Allora, diciamo che è un espediente anche questo ricorrente. Pensiamo al famoso, al famigerato film La battaglia dell'ultimo Panzer, sempre del 69, di José Luis Mervino, che nel mercato tedesco viene spacciato con il nome Monte Cassino, anche se in realtà appunto era ipoteticamente ambientato in Normandia. Poi in realtà era una Normandia molto molto medierranea, quindi anche lì lasciava un po' il tempo che trovava, però in qualche modo, diciamo, se si è voluto mettere una toppa che forse era peggio del buco, scusate, se il buco era una realtà della Normandia con scenari da western, un po' di western, spaghetti western, con ambientazioni medierranee, volerlo porre con il nome di Monte Cassino, con una realtà che, diciamo, che centrava ancora, ancora meno nella realtà proposta, veramente un elemento di grande superficialità. Una superficialità che ritorna anche nella volontà di trasformare il film Recon, o comunque siamo in contesto italiano, il punto sostanziale, e qui arrivo al nocciolo del problema, è le ambientazioni. Noi sono le ambientazioni tipicamente nordiche. Abbiamo della vegetazione con una neve immensa che, onestamente, potrebbe in qualche modo poter essere trovata nell'appennino doschemiliano, quindi poteva benissimo essere riferita alla linea gotica. Beh, portarla nella linea Gustaf, comunque nella zona intorno a Monte Cassino, sicuramente è un po' troppo. Un po' troppo perché evidenzia, da una parte, appunto, come dicevo, la capacità, la volontà dei distributori di cercare di cercare di trovare sempre un appiglio che possa, in qualche modo, accalappiare, cercare di lusingare, di far incuriosire il pubblico, dall'altro vi è però una grandissima la presunzione da parte dei distributori di considerare gli spettatori degli stupidi, perché sostanzialmente portano a non far capire, a ritenere che non possano capire che quello è una cosa fantasiosa, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Questo, diciamo, se vale in America, dove sostanzialmente gli americani hanno una conoscenza molto limitata al di là degli oceani, quindi, diciamo, l'Europa non hanno la percezione bene di come possa essere fatta l'Italia, diciamo, in realtà poi non conoscono bene, forse a parte Roma, Firenze e Venezia, le altre realtà non le conoscono, quindi, diciamo, dire che dalle parti di Monte Cassino ci sono una situazione innevata del genere può anche andare bene, non riescono a capire quella differenza tra il Tirreno e l'Adriatico, tra le Alpi e le Ardenne da un certo punto di vista, quindi, in qualche modo, riescono anche a turlupinarli. Però un pubblico europeo, uno specifico italiano, magari anche interessato a questi argomenti che ha delle cognizioni, ha della conoscenza diretta delle realtà dei fronti, diciamo, è sgamato in maniera plateale il poter dire che quello è un elemento di Monte Cassino e zona limitrofa. Allora, il punto è, se si vogliono scegliere delle ambientazioni che sono totalmente lontane da quelle esistenti, pensiamo a Spielberg, Spielberg ha ricostruito le spiagge della Normandia, ha ricostruito Omaha Beach in Irlanda. Diciamo che si sa che l'ha rifatta in Irlanda, però obiettivamente ci sta, ci può stare, l'ambientazione non sfigura, non ci sono quegli elementi distorsivi che un film del genere può produrre. Invece, la realtà di questo film è veramente imbarazzante, cioè non c'è proprio la dignità materiale e morale di poter presentare un film del genere. Quindi, onestamente, questo film, che sotto l'aspetto artistico, diciamo, registico non voglia entrare, è un film anche un po' psicologico che dura in realtà molto poco, dura un'ora e mezza circa, quindi ha uno suo sviluppo narrativo totalmente diverso, se vogliamo, rispetto alla stragrande maggioranza dei film che si condensa su intorno alle due ore, che ha una sua evoluzione narrativa molto più articolata. Qui vi è la solito manipolo, che però ha degli elementi di psicologia dove il nemico non si vede quasi mai, a parte un graduato tedesco che ha una sua, senza voler spoilerare, una sua, che si vede all'inizio, quindi diciamo che muore all'inizio, che ha una sua collocazione particolare. Cioè, è un film che in qualche modo crea una identità individuale e collettiva dove viene evidenziata la brutalità della guerra, dove vengono evidenziati alcuni elementi tipici di rottura nel rapporto tra individuo e collettività, ma può avere la sua, il suo valore, la sua, è anche estetica di un certo virtuosismo, di un certo tentativo di innovare. Pensiamo alla sottile linea rossa come, appunto, più di vent'anni fa ha dato un accenno, un'intesa diversa rispetto ai soliti film molto più d'azione, molto più eroici. Beh, questo film si può collocare in questo ambiente sperimentale, però sicuramente da bocciare questa sua pretesa da parte dei, evidentemente già dall'inizio, dei produttori americani, ma a maggior ragione dei distributori italiani, nel voler enfatizzare questa appartenenza nel contesto italiano alla realtà di Monte Cassino. Quindi, onestamente, mi sentivo di fare questo video perché? Perché, appunto, la cinematografia bellica, che ha una sua grandissima dignità, ha avuto, ovviamente, degli alti e bassi, diciamo, dei film piuttosto scadenti, dei film più importanti, dei film fatti anche bene con pochi soldi. Quindi, in questo non voglio, ovviamente, dire che alti budget uguale film bello o viceversa. Abbiamo visto film maestosi, che sono delle cose obrobriose, e dei film fatti veramente con pochi soldi. Pensiamo all'Inferno e Pegli Eroi, per dire, diciamo che si basa su un cast più che importante, ma con, ovviamente, una situazione finanziaria piuttosto deficitaria, e però nasce proprio anche da questo elemento deficitario un film complesso psicologico, però che ha la sua dignità all'interno, appunto, di un film. Sul Ragon, onestamente, mi lascia un po' perplesso, anche perché, appunto, questi elementi poi vanno un po' a stridere, con il desiderio di trovare, di avere un pubblico anche di Palatofino che possa, in qualche modo, trovare coerente un tipo di cinema all'interno di un percorso molto più ampio, che può avere anche delle storie assolutamente fantasiosi, assolutamente poco realistiche nell'aspetto dell'impiato. Pensiamo ai Guerrieri. I Guerrieri è un film, è un pastisce, è un film che non ha nulla di reale, di realistico all'interno della campagna di Francia, però che si basa, all'interno di questo aspetto irrealistico, su degli elementi che comunque sono coerenti nello sviluppo narrativo e allo sviluppo anche della stessa guerra. Sul Ragon ho i miei dubbi, quindi mi sembrava anche giusto approfondire questa cosa, anche confrontarmi con voi, magari se avete avuto modo di vederlo e evidenziare come, appunto, la poca cura che si vuole rivolgere in questo senso, molte volte pregiudica la credibilità anche delle stesse pellicole, appunto, nonostante poi le interpretazioni che sono anche, secondo me, molto interessanti. Pensiamo a Franco Nero come realtà italiana, che è ricorrente nella storia del cinema bellico, con anche partecipazioni a film di caratura internazionale, appunto, pensiamo a Forza di Città Navarone, pensiamo a Battaglia dell'Anneretva, quindi insomma, delle realtà di ampio respiro in cui un attore del genere è riuscito a emergere. Quindi questo, secondo me, era un elemento importante e andava anche sottolineato all'interno di questo percorso di analisi critica, di analisi obiettiva del cinema bellico. Detto questo, come al solito, continuo a ringraziare Mauro Lottici per i graditissimi spunti di riflessione, mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!